Ecco, mi piacerebbe vedere eventi più innovativi Diciamo perché, cos'è che non ti va bene modisti eventi? Spighe reccezionali, prestigiosi, pubblico gigantesco Ho capito però A me non è che mi puoi frastornare soltanto appunto Con i fuochi d'artificio, i botti, la musica bella eccetera Io ho bisogno di scoprire, di vedere cose nuove, interessanti, diverse Dove io pubblico, mi sento più partecipe, mi sento dentro la storia Quindi secondo me, amore mio, ci sta proprio Una cosa, come si può chiamare? Una distesa, no? Di più Un altopiano, no? Di più Un'oceano, un'infinità di spazio, di miglioramento Per gli eventi Per renderli più appassionanti, più interessanti Per vendere i biglietti che vanno a ruba Perché non vanno a ruba? Ma perché così a volte No, sì, è bravo Però, oh, tutto il giorno devo stare lì seduto Ascoltare Abbi pazienza Guarda Uno Non mi piace la grande separazione che c'è Fra chi presenta e chi ascolta Ok? Cerchiamo di avvicinare questi grandi personaggi Al pubblico Non mi piace, ecco, che c'è questo muro di separazione Così lui rimane Sull'altare e noi siamo poverini Pure Tony Robbins, lo vedi, viene giù Te parla, te piglia, te scuote Te dice le cose Quindi Non è che per essere superstar Devi essere coi bodyguard intorno a che nessuno mi tocca Questo secondo me è un po' superato come concetto I tempi I tempi delle cose Cioè, se deve venire poi uno o una là Che mi deve leggere tutte le slide Cioè, che mentre spiega al pubblico Si deve girare per spiegare la slide Ma io dico Ma in che anno stiamo? Basta con queste presentazioni Cioè, presentazioni basta Poi, se tu vuoi avere delle slide Perché pensi che la tua vita Possa essere non così tanto eccezionale se non le usi Ok, usa Vabbè, usa queste slide Ma hanno preso il sopravvento Cioè, uno sta lì e scrive tutte queste slide Poi va a fare la presentazione E per leggere quello che ha scritto le slide Perché senza le slide lui non sarebbe nessuno Fai una cosa Se devi invitare uno di questi Gli dici Senti Visto che le slide le devi leggere Te le leggi adesso bene a casa che non ti vede nessuno Metti pure un microfono Registri Tutto quello che hai da dire su queste slide Mi mandi un bel video Lo mandiamo a tutti quelli che hanno pagato il biglietto una settimana prima Così che se lo possono guardare con calma E quando vengono sabato o domenica che c'è l'evento Possono usare quel tempo per farti delle dannatissime domande Per metterti in difficoltà Per capire se hanno capito bene Per approfondire l'argomento Invece che andare lì a ascoltare A vedere te che leggi le slide Cos'altro non mi piace degli eventi Trovo sempre che come c'è poco spazio per www www nel senso di Conoscersi con gli altri Cioè, facciamo speed dating agli eventi Nel senso, incontriamoci Diamo la possibilità alle persone di incontrarci La cosa più gratificante Più arricchente che ci possa essere E invece magari questi break Già ti devi preoccupare di Senza fare lo sgarbato Di comunque incolonnarti Da qualche parte per riuscire a prendere Lo spuntino e il caffè Perché stanno tutti lì Tutti insieme Non è piacevole Non è come a scuola È un po' meglio Però Potrebbe essere Centomila volte meglio Cos'è che non mi piace d'altro? Senti, una cosa che Bisogna eliminare Dalla faccia della terra Secondo me Poi tu contraddicimi giustamente Sono i panel I panel Oh, ah, ah Ancora questi panel Cioè ci stanno quelli là schierati Che tipo arrivano con la borsetta Col termos Cioè una volta che si sono insediati Dietro quella scrivania Rialzata con i microfoni Quelli pieghevoli Con la bottiglietta d'acqua Già pronta accanto Quelli Hanno come una cuccia lì No? Una specie di posto di Kinderheim Dove vanno in vacanza Fino a che arriva il loro turno Poi ti dicono queste cose Che hanno stabilito di dirti Cioè interazioni Potrebbero stare da soli Lì in una gabbia Isolata A circolo polare artico Dirlo sarebbe la stessa cosa Basta Basta Per favore Basta Cos'altro non mi piace Non mi piace Non poter seguire Dovunque io sia Anche al bagno Sono andato un attimo in camera Voglio cambiare Oddio questo non lo potevo sentire Però lo vorrei sentire Un qualcosa dove Seguire Cioè ma Con lo smartphone Con il tablet Con il computer Ma perché Non posso vedere la slide Che sta andando in onda Vedere il video Con la ripresa E se vado nella lobby O vado in macchina Nel parcheggio O salgo in camera Oppure voglio stare fuori Perché qua non si respira Dentro quest'aula Che ci hanno dato Io non posso seguire In quel momento Quello che succede Ma i tool Le tecnologie ci sono Ma ragazzi Non va bene Non è giusto questo Quindi Ma Robin Tu che proponi Io propongo Di cambiare un po' le cose Giriamo un po' Palco e spettatori Usiamo Anfiteatri Circo Le arene Posti dove la gente Si possa mischiare Facciamo sessioni Più brevi Mandiamo alla gente Prima le presentazioni Di modo che poi Quando ci incontriamo Si possono fare domande Buttiamo via i panel Facciamo dei faccia a faccia Fra gente che la pensa In maniera diversa E facciamo delle domande Toste Difficili Facciamo dei bei giochi Dei contest Dei quiz Che la gente si diverta E la sera Quando è finito Stiamo insieme No che mi mandi a casa Con la metro Il treno Riprendo l'aereo Cioè stiamo insieme Divertiamoci Musica Mangiare E poter scambiare Stare insieme Oh Si